Se tu tensi l'ergonomice avanzato, porta la tua esperienza in cucina a un altro livello. Indispensabili per supportarti nel realizzare prelibatezze per i tuoi commensali. È composto da Spatola ergonomica, è ideale per girare pancake o filetti e servirli direttamente sul piatto da portata. Schiumaiola, è perfetta per rimuovere la schiuma in eccesso durante l'ebollizione o per scolare alimenti delicati come raviole e gnocchetti. Pinze ergonomiche, ti assisteranno al meglio durante la cottura oppure per aggiungere elementi di guarnizione ai tuoi piatti ed essere più preciso e pulito nella lavorazione. Mestolo ergonomico, ti aiuterà a servire delicate zuppe e calmi minestroni. Cucchiaio forato, ti aiuta a mescolare le preparazioni più delicate come stufati di carne. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale. Per te è gratis e non cambia niente, ma per me non è più importante.